È stata per 105 giorni in compagnia di altre 130 opere provenienti dai più importanti musei italiani e esteri nella mostra Raffaello il sole delle arti, tenutasi appunto negli ultimi tre mesi alla reggia di Veneria Reale a Torino, una mostra che ha avuto in questi 105 giorni 72 mila visitatori. Noi abbiamo ottenuto oltre la presenza insieme a prestigiosissime opere, ricordo la stessa muta di Raffaello che è tornata pochi giorni fa alla Pinacoteca di Urbino, alla Galleria Nazionale delle Marche, abbiamo avuto l'opportunità di documentare un percorso giovanile di questo genio in una delle opere che sono a lui attribuite, ma anche l'influenza che ha avuto nelle arti minori, nelle arti applicate, quindi è un taglio di mostra interessantissimo. E poi c'è stata l'opportunità di promuovere anche la città perché abbiamo ottenuto la presenza nel bookshop della mostra stessa di materiale propagandistico e turistico della città di Fano, che è stato molto consultato, e un finanziamento per restaurare alcuni dipinti della Pinacoteca. Quindi direi un'operazione che si chiude bene, con grande soddisfazione dei curatori e delle recensioni che sono comparse sulle migliori riviste specializzate e quotidiane.